19 luglio 2016 avevamo segnalato e richiesto il taglio dell'erba, cosa automaticamente non è avvenuta perché sordi e questo è quello che sta accadendo, sono le 8 del pomeriggio, ecco, buona respirazione a tutti, qui c'è intrapoco l'autocombustione, ogni volta su la parte, stai adoro, scuola a vediamo allora, grazie a tutti, per 3 gradi loro, nessun video, non ci sono più inizieti, sono le soli e un'immagrazione, quindi l'avvio, quindi la parte elevando, avvenuta dallaOrice, Tutto ciò sempre a fronte al campo Salviati, nelle vicinanze ci sono abitazioni, si sta oscurando anche il sole dal grande fuoco. Tutto a fuoco, questo fumo nero non è assolutamente erba, ma è lo stesso luogo dove ieri si chiedevano un altro grande ruoco e mentre al municipio si preoccupano se i cittadini applaudono un presidente, questi sono i loro problemi, un'opposizione di cartone che per i tre anni prima abbiamo parlato di fuffa, del dolce non fare, del menefreghismo e oggi si permettono in lusso pure di alzare la voce, vergognatevi. Ecco, questo è il tramonto del 19 luglio del 2016. Tutta l'area è appestata, una puzza in mane, i vigili del fuoco non si vedono, però in compenso adesso sono arrivati i vigili urbani, molto vigili, molto attenti. Ecco qua. Benvenuti a Torsalienza, sempre il 19 luglio, una delle migliori panoramiche di Roma. Ecco, questo è quello che accade quando le istituzioni se ne fregano altamente, con la scusante che non ci sono soldi, però tutti quelli che si sono pappati e seguitano a pappasse. Povera città e povera Torsalienza. Una politica lurida, infame, un vero Leta Maio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.